Meghi Kozuk alla vigilia della terza giornata di Champions League, partita fondamentale per la POMI, bisogna vincere per continuare ad avere speranza di passare in questo raggruppamento di ferro. Sì, assolutamente è vero. Tutti sanno che abbiamo un tour, un girone molto difficile, dobbiamo concentrarci su una partita, su ogni partita, ogni partita è importante. Adesso con la Repubblica Ceca, che abbiamo già iniziato a fare i video ieri, la preparazione ieri, si vede che sono giocatrici che hanno anche tante forze e dobbiamo trovare i punti deboli, concentrarci su di noi e portare una vittoria a casa. Ecco, è stato ripetuto più volte, è una squadra che ha 0 punti, 0 set vinti, però non è la classica squadra materasso, cioè questa è una squadra che probabilmente in qualsiasi altro girone giocherebbe per la qualificazione, in questo ovviamente soffre la forza delle altre. Infatti proprio così, non c'è per niente da sottovalutare perché credo che è una squadra molto forte, la palleggiatrice la conosco molto bene, che è una delle mie migliori amiche, che gioca anche in nazionale tedesca, che è una giocatrice molto brava, con degli attaccanti molto bravi, e allora sarà una partita molto difficile, molto dura e sarà importante per noi a concentrarci, non importa magari come partiamo, che problemi avremo, di avere una certa tranquillità anche e con calma comunque facendo anche il nostro gioco passo dopo passo riuscire a mettere i paloni sulla terra. L'ultimissima cosa riguarda il fattore campo, il pubblico, perché non so se lo sapevi, però Cremona ha fatto il record di spettatori nelle prime due giornate di Champions, quindi tutti hanno giocato almeno una gara in casa, anzi una gara in casa, e Cremona ha fatto il record di spettatori, una spinta in più che speriamo possa ripetersi anche appunto mercoledì sera. Non lo sapevo, però sicuramente si è sentito, è molto bello giocare con il pubblico che ci sta dietro, con una palestra così calda, soprattutto in momenti di difficoltà, è una forza in più, un'energia che ci arriva, che veramente ogni giocatrice se lo augura, e questa forza sicuramente anche domani la sentiremo in campo. Grazie. Ciao.